Musica Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 tutte le mattine c'è la rassegna stampa con l'occhiata ai giornali che diamo prima di iniziare la nostra giornata e allora è il primo appuntamento informativo che è in palinsesto su Fano TV cominciamo allora con il calendario, poi le previsioni del tempo e vediamo i giornali cominciamo allora dal santo di oggi, oggi è un santo che ci sta particolarmente cara è una santa che ci sta particolarmente cara perché parliamo di Santa Chiara d'Assisi e Santa Chiara d'Assisi è anche la patrona della televisione Santa Chiara che morì nel 1253 dopo 19 anni di infermità due giorni dopo l'approvazione della sua regola il sole sorto alle 6.08 tramonterà alle 20.19 il tempo di oggi avremo precipitazioni al mattino con rovescio temporali sparsi in esaurimento dalle ore centrali della giornata a partire dai settori settentrionali al pomeriggio avremo ancora residui, deboli fenomeni sui settori meridionali le temperature sono in diminuzione per venerdì 12 invece il tempo migliora ecco il bel tempo su tutta la costa adriatica con le temperature massime in ripresa sabato ancora bel tempo, temperature in lieve aumento la giornata di domenica e almeno la prima parte della prossima settimana saranno caratterizzate da condizioni di stabilità il dramma, il dramma di una ragazza di 24 anni che a un certo punto si accorge una ragazza che era incinta al nono mese si accorge che qualcosa non va il feto non si muove più il bimbo che porta nel grembo non si muove più da due giorni comincia tutta una serie di visite alla fine arriva all'ospedale di Fano i medici vedono che il piccolo è senza vita poi accade alle 1.45 di notte l'imprevedibile anche la mamma comincia a star male perde conoscenza e purtroppo muore di questo parlano i due quotidiani il resto del carino Corriere Adriatico questa mattina con ampio spazio, ampie pagine e allora cominciamo dal Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro il titolo è muore di parto a soli 24 anni in grembo il bimbo senza vita il marito dice visitate in più ospedali nessuno però se ne è accorto a centro pagina salta Inter-Borussia stadio Vergogna piove su Ancona il campo non ha i teloni i tedeschi si rifiutano di giocare delusione tra i tifosi arrivati per l'esordio di De Boer che è il nuovo giocatore nuova notte delle candele la rivolta dei bagnini lo vedremo tra poco all'interno nelle pagine interne del giornale poi il Fano inserisce invece Zigross in difesa buon test per la vis Pesaro allo sferisterio di Macerata una medea per i migranti e poi all'opera a Pesaro red carpet all'opera il Made in Marche in prima fila con un outfit da VIP e adesso dicevo entriamo nelle pagine interne del quotidiano delle Marche la foto è a tutta pagina per questa ragazza di 24 anni che non c'è più Carmen muore tra i dolori questo è il titolo va all'ospedale di Fano per stabilire la data del cesareo ma i medici trovano che il feto è senza vita si prova a indurre il travaglio per espellere il bimbo poi le complicazioni e l'agonia aveva 24 anni c'è tutto il racconto sul quotidiano Corriere Adriatico i dettagli tutti i passaggi le tappe di questa vicenda il 10 maggio l'ultima visita programmata a Senigallia poi il 9 agosto appunto i controlli a Fano e la morte improvvisa la gravidanza della giovane donna al secondo figlio era stata seguita dai medici del nosocomio di Senigallia l'altra pagina pagina 3 io sono disperato parla il marito eccolo qua Francesco Miro questo giovane il giovane della donna morta penso a mio figlio che ha appena 4 anni l'altro figlio della coppia anche lui a lui si dovrà adesso dare una risposta io sono disperato ma voglio la verità il marito di Carmen dice si era accorta mia moglie che qualcosa non stava andando che qualcosa non andava Carmen pur essendo nata all'ospedale di Fabriano nel 92 era vissuta fin dalla nascita a Senigallia Senigallia aveva frequentato anche la scuola prima di dedicarsi alla sua famiglia l'altra pagina invece eccola qua un'altra foto un'altra foto di Miro e Carmen che mostrano il ventre della donna durante la gravidanza una delle foto che si fanno di solito momenti spensierati momenti felici in attesa di questo secondo figlio che doveva chiamarsi Mattia eventi rari parla l'ex primario del Savio illustra le cause più frequenti dice eventi rari ma possibili illustra le cause frequenti di decessi in ostetricia da difetti di coagulazione a interazioni fatali tra placenta e corpo materno il ginecologo parla appunto che sono eventi rari e dolorosissimi ma è chiaro che per affrontarne le ragioni scientifiche e mediche di questo dramma mancano informazioni fondamentali informazioni che arriveranno probabilmente nelle prossime ore visto che per oggi è stato fissato l'esame autoptico sulla ragazza restano da stabilire le reali cause della morte e anche qui i numeri i numeri dei bambini nati nelle Marche l'età media delle partorienti che si aggira intorno ai 31,7 31 anni quasi 32 anni e il numero di figli per coppia 1,34 la scelta di indurre poi dice ancora il ginecologo un parto naturale in presenza di un feto senza vita è nei protocolli qualcuno avrebbe potuto dire ma come non era meglio fare il cesareo no la scelta di indurre dice il primario l'ex primario di far fare un parto naturale nonostante dentro ci fosse un bimbo già morto purtroppo è nei protocolli come dire così si fa cambiamo argomento andiamo avanti con il giornale sempre dal resto del calino in primo piano dopo ferragosto scatta il fermo pesca nelle Marche stop a 550 imbarcazioni lampare vongolare proseguiranno l'attività ecco cosa acquistare fino al 26 di settembre è uno stop di 42 giorni consecutivi che appunto inizierà martedì 16 agosto e si concluderà il 26 di settembre nella fascia costiera che va da Pesaro a Bari questo è il regolamento questo è stato stabilito ormai da tempo in tilt invece in primo piano nelle Marche in tilt gli uffici per i turisti mancano pure le brochure le brochure sono i volantini i pieghevoli quelli dove ci sono le informazioni sulla regione sulle città turistiche poco personale troppe ore da coprire tutti gli servizi segnalati in regione il rebus del sito dell'ospedale unico Fano Pesaro innesca attacchi trasversali i 5 stelle contestano un metodo il metodo e anche il merito a Fano la lista del sindaco mette in guardia per vincere la battaglia chiediamo il supporto di tutti i fanesi e dell'entroterra i sindaci riuniti solo ai primi di settembre Gambini aspetterà la fine delle ferie per convocare l'area vasta e dunque per aprire decidere e aprire insomma la busta voucher boom che solleva dubbi parliamo di lavoro continua la crescita esponenziale dello strumento che era stato pensato per i lavoratori occasionali l'allarme arriva da CGL e CISL niente tutela o indennità di disoccupazione e a volte nascondono anche il nero ecco come la fondazione siamo in Pesaro primo piano la fondazione ha ridato vita a Rossini il presidente Giovannelli racconta l'impegno e il rapporto con la città ancora dal Corriere Adriatico andiamo sull'altra pagina dove si parla della notte delle candele che doveva esserci ieri sera ma poi per il maltempo è stata rispostata e rinviata a sabato sera la rivolta dei bagnini per la notte delle candele il rinvio causa sovrapposizioni e fastidi così non è più un valore aggiunto dicono l'assessore delle noci dice purtroppo le previsioni del tempo non ci hanno lasciato alternative certamente con il mare mosso e con 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 la pioggia insomma un po' col freddo non è il massimo della vita Santa Marta ancora ritardi le aule parliamo dell'istituto Santa Marta dove c'è eccola qua la foto sta sulla statale all'ingresso di Pesaro dicevo dove c'è l'alberghiero la sede dell'istituto alberghiero le aule saranno pronte per l'avvio dell'anno scolastico ma non i laboratori domenicucci disagi temporanei lavori finiti qualche settimana dopo sono stato sconfitto dal tempo che passa sono parole amare di un campione del nuoto che ha detto cioè che Filippo Magnini è che dice ha detto per una volta oggi mi sento un vecchio mi sento davvero vecchio e anche i supereroi invecchiano l'annuncio dell'addio di Filippo Magnini uniti nel dolore in questo caso dolore lo metterei tra virgolette visto che i dolori sono altri ma comunque anche la Pellegrini 28 anni dopo lo shock del quarto posto nel 200 stile libro si è lasciato andare su Instagram a parole che su Instagram a parole che sanno di addio lei ha scritto forse è tempo di cambiare vita un male così forte poche volte l'ho sentito certo che paragonate alle altre pagine e al dolore delle altre pagine fa un certo che i titoli le parole che a volte si usano bisognerebbe usarle sempre nel posto giusto nel momento giusto dolore shock eccetera sono altri l'abbiamo visto poco fa comunque andiamo avanti si picchiano davanti alla figlia siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico si picchiano davanti alla figlia di 5 anni la piccola è stata affidata alla nonna la madre ed il compagno sono stati sorpresi a litigare in auto completamente ubriachi entrambi sono stati senzionati per le loro condizioni la donna invece è stata segnalata anche alla procura dei minori la bambina di 5 anni era in stato di shock ma è stata supportata dagli esperti dell'ospedale fanese mentre sotto sempre sulla pagina di Fano salvato in extremis dal paracadute paracadute d'emergenza tragedia sfiorata dopo che la prima vela si era accartocciata ancora turismo 2.0 è stato presentato il nuovo sito del turismo che tante polemiche aveva scatenato perché risultato obsoleto vecchio poco attraente per chi cercava informazioni sulla nostra città ebbene è stato inaugurato il nuovo sito del comune presentato il portale online da ieri è stato curato dai tecnici del SIC silenzio a Lido si balla guardate questa fotografia e capirete perché silenzio a Lido si balla perché è praticamente una festa dove se non avete le cuffie vedete tanta gente che si muove che balla ma senza sentire musica perché la musica viene diffusa attraverso le cuffie chi ha le cuffie balla è un party che non disturba chi di notte vuole dormire è una cosa nuova una cosa divertente sarà carino anche vedere un po' l'effetto che fa originale festa sul lungomare Simonetti a Lido tre DJ e cuffie wireless cioè senza fili per tutti questo lungo weekend sarà vedrà sul palco anche il live dei Roba Grossa e adesso ancora dalla pagina del Corriere Adriatico Memorial Bronco siamo sulla pagina di Fano Sport il Memorial Bronco va alla squadra che si chiama Cani Sciolti a vincere sono tutti i tifosi però grande entusiasmo e partecipazione all'evento ricordo di Federico Santini Valcesano profughi un restyling al motel Magi che però non aveva il permesso e quindi nessuno lo ha chiesto il comune era all'oscuro quindi il comune la polizia municipale ha bloccato i lavori qui c'è una storia di profughi di inserimento di profughi in questa struttura che il comune aveva giudicato inagibile perché mancavano credo se non ricordo male l'antincendio o cose di questo genere la cooperativa ha cercato nei giorni scorsi di porre rimedio per ospitare questi profughi all'interno però il comune o meglio un privato cittadino ha segnalato che dentro stavano avvenendo dei lavori probabilmente non autorizzati così il comune è arrivato lì ha fatto i controlli e ha bloccato tutto quanto e poi sempre da questa pagina del Valle del Cesano andiamo sull'altra pagina dopo Ivan o meglio dopo Enrico Ruggeri l'anno scorso a Marotta il concerto che ha richiamato sulla 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 paese tanta gente in paese tanta gente c'è un altro concerto notti d'autore l'omaggio a Ivan Graziani con Mingardi e altri big della canzone italiana in piazza saranno due serate due serate ingresso gratuito appunto dopo Ruggeri e durante la serata una di queste serate verrà consegnata una targa alla moglie di Ivan Graziani nell'occasione sarà presentato il lavoro di Onfalos a favore dei bambini autistici la pagina di Senigallia del Corriere Adriatico vandali e ladri sotto l'ombrellone lettini gettati in acqua sulla spiaggia sul lungomare Marconi e scazzottata tra i parcheggiatori abusivi a pochi giorni di ferragosto sulla riviera scatta l'emergenza sicurezza i bagnini costretti in trincea e adesso andiamo sulla pagina di apriamo adesso il resto del Carlino e in primo piano il decesso di Carmen questa ragazza di 24 anni la storia di Carmen il ricovero la scoperta del feto senza vita poi il travaglio e nella notte il decesso dall'ospedale dicono abbiamo fatto tutto il possibile la procura sequestra però la cartella clinica ostetricia viene inaugurato il 6 agosto scorso a Fano presenti il direttore generale Capalbo e Luca Ceriscioli dopo i lavori effettuati mentre tornando al fatto di cronaca ben 75 minuti per rianimarla poi il decesso presto l'autopsia per capire anche quando il bambino o meglio il feto appunto è morto sogni distrutti intorno a quel bimbo che doveva chiamarsi Mattia colpo di fulmine a Marotta poco dopo il matrimonio e il nido d'amore a Mondavio cercavo casa insieme a quella ho trovato anche la moglie c'è il dolore dei parenti il racconto sulla pagina 2 del resto del Carlino l'altra pagina invece è un'intervista fatta ai parenti al marito a tutti i parenti che stanno arrivando adesso da Napoli dal sud parenti che si stanno stringendo chiaramente attorno al marito per sostenerlo in questo momento drammatico la rabbia e il dolore non accetto questa fine assurda mia moglie è deceduta tra dolori atroci racconta il marito per me è omicidio colposo a Senigallia la ginecologa dell'altro parto dice con lei ci eravamo trovati benissimo parla Veronica Quagliarini che dice non posso pronunciarmi fino a quando non ci sarà qualcosa di certo sulla situazione poche parole per dire insomma che la dottoressa ha avuto ha avuto a che fare con questa donna con Carmen perché appunto aveva già seguito l'altro l'altro parto nella pagina di Fano del resto del Carlino invece si picchiano furiosamente in auto davanti alla bimba di 5 anni sotto shock alla figlioletta della donna e poi sulle sagre le sagre di qualità il consigliere regionale Minardi ci mette il bollino pronta la proposta di legge in regione e poi annuncia andiamo a Marotta annuncia un finto suicidio pensate voi e tutto questo però paralizza una città perché? perché un fabrianese dice una fabrianese dice al fidanzato che si getterà sotto il treno scattano ovviamente le ricerche i controlli della polizia ferroviaria in stazione procurando code chilometriche per il passaggio a livello chiuso insomma la donna è stata rintracciata in una casa di sua proprietà ora giustamente rischia anche una denuncia la rasseggia stampa finisce qui Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 vi ricordo il telegiornale delle 20.30 invece di questa sera con gli aggiornamenti il sito internet occhio alla notizia punto it a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a voi Grazie a tutti.